Quindi qualcuno mi viene chiedere a me di fare discriminazioni? Venite tranquillamente, io mi opporrò fino all'ultimo della mia vita. Non chiederanno il Green Pass all'interno del palazzetto del nuoto di Arezzo perché secondo i gestori di questa struttura non è un documento necessario diciamo appunto all'attività sportiva. Questa la loro posizione che fa molto discutere. La questione è nata in seguito a numerose segnalazioni giunte agli uffici comunali di Arezzo. Il palazzetto di proprietà comunale costruito con un project financing è in gestione al centro sport Chimera che intende e lo ha palesato anche con un cartello chiedere ai propri utenti solo il certificato medico di sana e robusta Costituzione per accedere all'impianto. La richiesta del Green Pass andrebbe in contrasto con la nostra Costituzione e con le norme europee. Se poi voglio dire se l'amministrazione ritiene che le leggi europee non valgano che la Costituzione non valga e che valga soltanto una legge che all'articolo 3 dice una cosa e all'articolo 4 dice esattamente il contrario, dice chi viene in piscina deve avere il Green Pass e lasciamo stare tutte quelle altre cose. E poi all'articolo 4 dice solo però se questa richiesta è compatibile con la norma europea. Ma guarda caso con la norma europea non è compatibile perché è in contrasto, perché io non discrimino nessuno. E questo è il mio atto. E io chiedo una garanzia con certificato medico e mi rifaccio alle leggi. E se qualcuno ha da obiettare sulle leggi, esca fuori, lo dica, faccia quello che viene a fare. Al momento del primo controllo da parte della Polizia Municipale non c'era nessuno in acqua e quindi non è stata combinata alcuna multa. In questo momento, afferma l'assessore allo sport Federico Scapecchi, siamo al dialogo, ma siamo pronti a far rispettare la legge sotto tutti i punti di vista. Il nuoto libero partirà il primo di settembre, i corsi il 20. In quella occasione, assicura l'amministrazione, i controlli ci saranno. Continuerà a chiedere solo ed esclusivamente al certificato medico. Se lei vuole dirmi che ha il Green Pass, io l'ascolto e ne prendo atto. Ma se lei ha il Green Pass e pensa di avere un documento che sia utile per entrare in piscina, gli dico che questo, lega anche il documento che gli ho dato, questo non è valido per entrare in piscina. A svolgere attività. Le multe per i trasgressori sono piuttosto salate, vanno da 400 a 1000 euro sia a carico dell'esercente sia del cliente. E in caso di violazione reiterata per tre volte in tre giorni diversi, l'esercizio, qualunque esso sia ovviamente, potrebbe essere chiuso da uno a dieci giorni. I gestori dell'impianto comunque non nascondono la loro forte preoccupazione. Dopo quasi un anno e mezzo di inattività, i corsi che partiranno saranno ridotti di quasi il 50%. No, io tranquillo, non sono tranquillo. Io delle mie azioni sono tranquillissimo perché le faccio in coscienza. E so sicuro di quello che dico perché non lo dico io, lo dicono tanti altri soggetti molto meglio di me dal punto di vista delle competenze. Se per tranquillità a me mi scoccia tutto questo clamore, perché questo clamore confonde l'idea e la gente e trasforma, come già fatto da un anno e mezzo, i cittadini italiani in tifosi. Io sono questo, io sono quella. E facendo una voragine immensa sulla coesione sociale, pazzesca. Per cui presumo che molta gente non verrà in piccina.